ciao ragazzi ciao a tutti e benvenuti in un altro video di italiano come potete vedere dal titolo oggi vi spiego una parte di grammatica e più precisamente 12 verbi italiani più usati io andrò a leggere insieme a voi questo pdf così potete seguirmi e capire tutto quello che sto dicendo vi ricordo come sempre per migliorare l'italiano è meglio ascoltare più volte un video in italiano quindi ascoltate questo video o altri video del mio canale più di una volta in modo da abituarvi al mio parlato e soprattutto ai vocaboli che non conoscete e alle frasi quotidiane italiane ok quindi partiamo con questa lezione dodici verbi italiani più usati oggi vediamo insieme dodici verbi più usati e molto comuni nella lingua italiana questi verbi ti saranno molto utili per migliorare questa lingua ma anche per comprendere noi italiani e diventare più fluente salterò i due più famosi verbi che sono usati anche come ausiliari ausiliari significa quei verbi che aiutano a formare i tempi composti del passato questi verbi ausiliari sono il verbo essere e il verbo avere in questo in questa lezione ti spiegherò questi verbi usando frasi comuni e poi grazie a questo impari questi verbi li usi subito nelle frasi e migliori il tuo italiano impari attraverso il metodo naturale di cui ho parlato in un altro video qui sul mio canale vai a vederlo perché è molto utile detto ciò partiamo con il primo verbo e poi con tutti gli altri verbo numero uno stare è un verbo che indica che noi siamo in un luogo o come noi ci sentiamo fisicamente emotivamente mi piace stare qui in vacanza al mare oggi sto quindi io sto proprio bene quindi mi sento bene e questo è sentire emotivamente e anche fisicamente dove stai andando sto andando a visitare la città stai sicuro stai sicura che il treno passa bisogna solo avere pazienza questa è una frase molto italiana perché spesso i treni in italia sono sempre in ritardo anzi senza spesso è raro vedere dei verdi i treni che arrivano in orario però basta avere pazienza numero due pensare questo verbo è usato per esprimere le proprie opinioni e pensieri penso di aver sbagliato strada pensavamo di essere arrivati in ritardo non pensavo fosse così bella la città di verona cosa pensate di fare questa sera dovere questo verbo è usato per dare ordini o suggerimenti dobbiamo partire adesso o arriveremo in ritardo se vuoi essere fluente in italiano devi praticarlo ogni giorno sapete cosa dovete fare adesso? devono chiedere informazioni a quel vigile andare indica i nostri o altrui cioè degli altri spostamenti vado fuori a cena questa sera dove andate? andiamo a fare la spesa ti serve qualcosa? perché vanno sempre da quella parte? lui lei va molto veloci in macchina venire indica i nostri o altrui arrivi luoghi di provenienza da dove vieni? vengo dal Brasile se venite con noi arriviamo prima viene anche lui, lei alla festa i turisti vengono sempre a visitare questa cattedrale provare indica una possibilità di fare, dire, avere qualcosa provo a chiedere informazioni a quelle persone provate a telefonare adesso per prenotare una pizza perché non provano a chiamare un meccanico per aggiustare la macchina? lui lei prova il vestito per il matrimonio chiedere questo è un verbo utile per conoscere le cose le persone, le situazioni e per avere qualcosa in cambio chiedo informazioni a quelle persone chiedono se possono entrare a vedere il museo chiedi quando passa l'autobus 25 per favore se chiedete con gentilezza le persone vi risponderanno volentieri pagare verbo usato per l'argomento denaro soldi questi sono sinonimi money in inglese quando ti pagano lo stipendio? pagate il biglietto prima di salire sull'autobus un attimo pago la spesa e arrivo lui lei paga quel paio di scarpe costose prendere cioè avere qualcosa cosa prendi da mangiare? questo verbo in questa frase spesso può essere usato al posto di cosa vuoi da mangiare quando si è fuori a mangiare al ristorante o al bar o da altre parti dove si ha il cibo magari in un luogo in cui si mangia fuori casa si può anche dire prendi cosa prendi si può usare il verbo prendere quindi cosa prendi da mangiare? prendiamo un panino in questo bar loro prendono due pizze e funghi prendi lo zaino che partiamo leggere in inglese to read cosa leggi? se leggete molto in italiano potete migliorare presto loro leggono sempre molto volentieri lei legge il giornale in spiaggia comprare comprare avere qualcosa dopo aver pagato compro un regalo per i miei amici i turisti comprano molto durante l'estate lui lui compra il pane in quel panificio adesso compriamo la pasta per pranzo e l'ultimo verbo dare dare un aiuto un consiglio o un oggetto mi dai mi dai una mano per favore? se do i consigli per imparare l'italiano voi seguiteli così diventerete bravi in Italia date la mancia ai camerieri no non la diamo loro danno una mano ai vicini di casa ecco qua questa era la lezione di oggi un video breve per farvi conoscere e per insegnarvi alcuni almeno dodici dei verbi italiani più usati vedete quante frasi di italiano quotidiano ho scritto sia riguardo al chiedere cibo indicazioni 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 stradali chiedere aiuto voi riguardate questo video per memorizzare meglio le frasi e vedrete che pian piano il vostro italiano migliorerà sempre di più io vi ringrazio per aver guardato questo video lasciate un mi piace se vi è piaciuto se avete delle domande scrivetele qui sotto e condividete questo video e questo canale con altre persone con amici che vogliono imparare questa bellissima lingua e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti e buona giornata grazie grazie ciao ciao